Buon pomeriggio, buon pomeriggio, bentrovate a Trieste in diretta per parlare in questo primo spazio, in questa prima mezz'ora, che poi comunque ci saranno altri due spazi, come sapete, il secondo spazio di Trieste in diretta e poi anche di Studio Telequattro, ma adesso parliamo assieme a Marina Pittini, Presidente della Fondazione Pietro Pittini, parliamo del progetto più sport a scuola. Buon pomeriggio, grazie per essere qui con noi. Mi stavo spulciando appunto poc'anzi gli appunti che ho qua sotto, parliamo di questo progetto che vuole essere un progetto inclusivo a sostegno degli istituti scolastici per promuovere l'attività sportiva, qualcosa che non possiamo che definire positivo a tutti gli effetti ovviamente, nello specifico di cosa parliamo? Ma guardi, lo sport è lo strumento didattico più antico del mondo, perché già nell'antica Grecia si faceva questo sport ed era un momento di grande attenzione per tutta la comunità, per le città. Io ho pensato allo sport come uno strumento per migliorare la vita dei ragazzi e per fargli affrontare meglio il loro futuro. Lo sport è appunto uno strumento didattico fenomenale perché insegna i valori della vittoria, della sconfitta, del vincere e perdere, la forza del sacrificio, l'importanza del sacrificio e della fatica che ci si impiega per arrivare ai successi, per arrivare a un risultato, ma anche il gioco di squadra, anche la capacità di collaborare e di aiutare, sostenere e di prendere esempio da tutta la squadra. Quindi in questo senso è inclusivo perché vuole essere appunto un gioco e attraverso il gioco però fatto in gruppo imparare dei valori che poi serviranno per tutta la vita. Ecco, ne parlavamo un attimo fa in Fuori Onda che è un progetto rivolto principalmente alle scuole medie. Esatto. Un po' degli anni di transizione, no? Dove il ragazzo e la ragazza ancora un po' insicuri. Sono in fase di sviluppo, quindi c'è una fase di crescita molto delicata perché da bambini diventano ragazzi, è il primo passo verso il diventare grandi. Io ho scelto le scuole medie perché di agire, diciamo, con questo progetto nelle scuole medie perché sono il segmento più debole della scuola italiana e anche perché le ore di educazione fisica non sono molte. Peraltro scegliamo noi le scuole e l'obiettivo è quello di andare in quelle scuole dove probabilmente non tutti possono permettersi di fare sport ai ragazzi. Questa è un po' la scelta di base. L'importanza dello sport in questo caso alle scuole medie, ma ovviamente l'importanza dello sport a tutti i livelli. Come diceva lei un attimo fa, dalle medie, previste in genere, mi pare due ore a settimana di attività fisica, di classica educazione fisica, molte volte distaccate tra di loro in giorni differenti. Un po' povera come offerta forse. È un po' povera, sì, sì. Infatti noi offriamo due pomeriggi a settimana di due ore l'uno, quindi totale quattro ore. Diciamo che la mia ambizione sarebbe quella di dimostrare che chi fa sport riesce anche meglio non solo nella vita, ma soprattutto in questa fase di studio che si ha fino alla maggior età, anche nello studio appunto, quindi nell'apprendere. Ci sono molte ricerche che confermano che lo sport aiuta anche le capacità di attenzione e le capacità cognitive. È chiaro che ci vuole molta disciplina, molta buona volontà, molta dedizione e concentrazione. E sono cose che si imparano anche attraverso lo sport, ecco, diciamo così. Lo sport tendenzialmente è focalizzato all'ottenimento di un obiettivo. Poi l'obiettivo può essere di prestazione, può essere di stare in forma, può essere un obiettivo a grandi livelli o a livelli anche semplicemente per sentirsi bene con se stessi. L'importante è che ci sia un traguardo da raggiungere. Perché però effettivamente noi troviamo sempre la scuola tendenzialmente slegata dai contesti sportivi, almeno nella nostra cultura continentale. Poi se già andiamo oltre manica o addirittura negli Stati Uniti, addirittura l'attività sportiva è propedeutica anche all'ottenimento di alcuni voti a scuola, piuttosto che comunque ottenere dei punteggi in alcune graduatorie che permettono allo studente di realizzarsi in un ambito particolare. Questo vuol dire che noi siamo un po' indietro? Siamo un po' indietro, sì, questo è un grande peccato, anche se è di questi giorni una notizia che vede il Ministero agire attraverso una operazione di avvicinamento delle scuole alle società sportive. È una cosa freschissima che devo ancora leggere con attenzione, però speriamo che anche il legislatore si avvicini a questo nuovo, a un modo un po' più moderno di concepire la scuola dove lo sport sia molto importante, ecco, assolutamente sì. E questa è un tipo, la fondazione in questo caso agisce esattamente a livello proprio... agisce come finanziatore, come organizzatore e come, diciamo, attuatore a tutti gli effetti di questi progetti che vanno a inserirsi nelle scuole dove siamo accolti. Quante scuole più o meno? Noi abbiamo coinvolto più o meno una dozzina di scuole in Friuli, Venezia, Giulia, di cui due a Trieste. Siamo presenti alla scuola Bergamas e alla scuola Svevo e questo è un progetto che generalmente piace ai ragazzi perché è inclusivo anche nel modo in cui viene svolto, nel senso che noi raccogliamo una classe per ogni scuola di tutti i ragazzi che vogliono partecipare, i ragazzi e le famiglie che ovviamente sono favorevoli, dove mettiamo insieme quelli di prima, di seconda e di terza. E questo è anche un altro modo di essere inclusivo, no? Di insegnare grandi... Ok, quindi non un raggruppamento per classi singole, ma... No, è volutamente misto, proprio perché i grandi devono essere in grado di insegnare i più piccoli, i più piccoli devono prendere esempio o spunto dai più grandi e ci deve essere un minimo di socializzazione, di collaborazione, di dialogo che sappiamo che manca anche fra i giovani, soprattutto di quest'età. Quindi un fine anche educativo. Assolutamente, il fine è assolutamente educativo. Sì, il progetto vuole diciamo arricchire i ragazzi delle life skills che sono fondamentali per la vita. Peraltro noi inseriamo in questo progetto anche alcune ore, un 20-30% di laboratorio di comunicazione che svolgiamo con degli esperti di comunicazione, soprattutto sui social, perché ormai tutti i ragazzi, ma anche gli adulti, comunicano per lo più con i social. Però bisogna insegnare, imparare a comunicare sui social, no? A sapere utilizzare. Sì, perché succede che magari non parlo con i miei compagni di banco, con i miei compagni di classe e poi però metto tutto sui social e questo va spiegato che problemi dà di bullismo, di cyberbullismo e sono tutti temi che noi trattiamo all'interno di questo progetto e che danno, diciamo che siamo abbastanza soddisfatti, noi cerchiamo sempre di migliorare. Peraltro abbiamo dato, abbiamo istituito anche un premio alla fine dell'anno scolastico a tutti, a un ragazzo, allo studente migliore di ogni scuola, proprio per insegnare anche il valore del merito, no? Perché nella vita tutti abbiamo delle vittorie, delle sconfitte, siamo premiati se ci comportiamo bene. Una sana competizione. Una sana competizione, sì, e quindi abbiamo fatto quest'anno un corso di vela di Vito e Ologgio, una settimana a Sistiana e insomma si sono molto divertiti questi ragazzini e siamo molto contenti anche noi ovviamente. Da quanto parte questo progetto, ma da che idea parte soprattutto? Ma le dico, non c'è niente di straordinario, è semplicemente utilizzare qualcosa che è molto utile, che è lo sport, e arricchire di più ore i pomeriggi dei ragazzi. Sappiamo che loro hanno molti compiti, però sappiamo anche che c'è un tasso di obesità che sta aumentando anche in regione. C'è un problema di divanite, banalmente, no? Perché tanti ragazzini magari o lasciati soli o anche, nonostante i genitori, tendono più all'ozio, a stare con la Playstation piuttosto che col cellulare. È anche un po' quello che ci insegna la società moderna. Purtroppo, sì, purtroppo. E invece fare un'ora, un paio d'ore come nel nostro caso, due volte a settimana, quindi quattro ore di sport, con un'attività multidisciplinare. Ecco, perché noi cerchiamo di far fare nel nostro percorso delle attività sportive diverse, dal calcio e dal basket, che sono quelle più praticate generalmente e anche le più amate. Però vogliamo far provare anche altre attività, tipo il baseball, abbiamo fatto fare anche bocce, che io ero molto stupita, ma è piaciuto tantissimo. Facciamo fare altre attività, tipo parkour, piuttosto che hip-hop. Anche per stimolare i giovani su quello che magari si pensa che possa interessarli maggiormente. Sì, 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 per non stancarli e per mantenere alta l'attenzione. Anche perché alla base di questo progetto ci siamo fatti un bel po' di analisi, di confronti con esperti. Abbiamo visto che la generazione Z, che è quella a cui noi siamo dedicati con questo progetto, è quella che ha il tasso di concentrazione più bassa. I libri ci dicono che la concentrazione media di questi ragazzini è di 8 secondi. Quindi cosa vuol dire? Che bisogna mantenere alta... 8 secondi? 8 secondi, sì, sì, così dicono. Poi insomma varierà, però la concentrazione non è molto alta. E quindi vogliamo mantenere alta l'attenzione, stancarli, farli divertire, ma anche dare loro dei valori. E degli stimoli soprattutto, immagino. Perché poi magari attraverso questi progetti un giovane per il suo sponte potrebbe essere invogliato ad iniziare un'attività sportiva se non l'ha mai praticata. Ma infatti, assolutamente. E anche un valore educativo e di sprono anche in questo senso. Anche perché conoscere attività nuove, attività sportive nuove, è sempre un arricchimento. Magari non tutti possono permetterselo. Oppure uno che fa calcio non saprà mai le regole del rugby e del baseball. Ed è un peccato perché magari un domani da grande gli farà comodo sapere come funzionano questi giochi. O comunque sarà piacevole. Ma quindi vi appoggiate anche ad associazioni, strutture, piuttosto che società? Noi abbiamo dei partner tecnici che sono l'Università di Scienze Motorie di Udine che ci dà dei docenti neolaureati di educazione fisica che sono un po' una costante del progetto assieme ai professori di educazione fisica interni delle scuole. E poi abbiamo degli esperti esterni che, diciamo, scegliamo in tutte le zone geografiche dove andiamo ad agire. Quindi a Trieste abbiamo degli esperti che scegliamo dalle varie società sportive, a Monfalcone dove siamo presenti, a Udine, a Casarsa, a Gorizia. In tutta la regione? In tutta la regione, sì. Quindi vi appoggiate a strutture, piuttosto che società, piuttosto che associazioni per promuovere questa cultura anche sportiva che ovviamente, ripeto, non può che essere come un valore aggiunto, un valore positivo. Ma l'associazione, anzi scusi, la fondazione Pittini, poi parlando più in una macro area... Guardi, la fondazione Pietro Pittini è rivolta soprattutto nel medio termine, e quindi ancora per qualche anno vuole cimentarsi sul territorio della regione Friuli-Venezia-Giulia. Quindi un po' su tutto il territorio, no? Senza eccezioni. E noi siamo ripartiti da pochi anni, quindi questo progetto è partito due anni fa, questo è il terzo anno in cui svolgiamo questo percorso di più sport a scuola e lentamente lo vorremmo estendere un po' anche ad altri, diciamo, centri e alle periferie della regione. Quante sono le figure professionali che ruotano intorno invece al progetto, a questo progetto? Perché immagino che per tenere legato tutto questo sistema ci voglia una grande partecipazione a livello di professionisti proprio. Ma sì, beh, deve pensare che abbiamo una dozzina di esperti dell'università, coordinati dal professor Bardini che ci aiuta, che fa parte anche del, oltre che del CONI, dell'Ufficio Scolastico Regionale, e poi abbiamo tutti questi esperti che ruotano, che si alternano, quindi abbiamo un bel numero di persone. Più abbiamo gli esperti di comunicazione giovanile, che a Trieste sono quelli della cooperativa La Collina, con cui collaboriamo da anni e sono bravissimi. Poi abbiamo Igor da Milano e l'associazione MEC di Udine. E lentamente cerchiamo di arricchirci con persone estremamente motivate ed esperte che abbiano un background utile per dialogare con questi ragazzi, no? Anche la grammatica è giusta e l'appeal che serve per conquistare questi ragazzi. E qual è il feedback che avete ricevuto? Intanto se è positivo il feedback che avete ricevuto. Sì, il feedback è positivo. Io sono molto ambiziosa, per cui voglio migliorare sempre. Io devo dire che sia i ragazzi che le scuole, quindi vuol dire i docenti, i presidi, che le famiglie ci ritornano dei feedback sporadici di grande soddisfazione. Quindi per noi è già tanto questo, tantissimo. I ragazzi quindi prendono questo progetto non come evidentemente un altro impegno oltre alla scuola, ma sono contenti quindi di partecipare, sono stimolati. Sì, sono molto contenti. Ovviamente tutti i ragazzi, come gli esseri umani, sono tutti diversi. Ci sono tantissime motivazioni di fondo diverse. Ho sentito qualcuno dire che questo progetto piace molto perché non gioco solo il calcio e neanche il basket, che noia, ma imparo cose nuove. Altre perché si divertono molto in gruppo e hanno imparato a dialogare con altri studenti della stessa scuola. Questo è pazzesco perché insomma uno pensa che appunto all'interno di una classe almeno, di una scuola, qualche parola ci si scambi. In realtà c'è molta solitudine in questi ragazzini qua e quindi c'è bisogno di aiutarli. E lo sport è un gioco utile anche per questo. No, no, è vero. Anzi, quando si è alle medie, insomma, in genere i ragazzi viaggiano per classi. Sono amici nella stessa classe, già un'altra classe si è già un po' diversi. Non mettiamo quando poi invece si va i ragazzi di prima media con quelli di seconda e terza media che neanche si parlano. Quindi è anche un'occasione per riunire un po' tutta la scuola. Sì, per mischiare, no? Sì, esatto. Per rompere le barriere, per vincere le paure anche che ci sono. E bisogna accompagnarli questi ragazzi perché poi danno tantissimo, danno moltissima soddisfazione. Addirittura a Udine siamo in una scuola che ha due plessi con due o tre chilometri di distanza uno dall'altro e c'è un ragazzino che pur di fare questo progetto lo fa sia in una scuola che nell'altra perché è felicissimo di farlo e di partecipare e di giocare, di divertirsi, di stancare, di stare con questi docenti. Devo dire che noi facciamo molta attenzione alla scelta dei docenti, cerchiamo persone che sappiano tenere un gruppo, che abbiano una certa leadership che è anche molto importante. Mi ha anticipato la domanda e volevo proprio chiedere che ruolo attivo avevano i docenti in tal senso. Beh, per esempio a Trieste, senza far nomi, ma lo faccio perché proprio a Triestino abbiamo Niccolò Millo che è un neolaureato di scienze motorie dell'Università di Udine, che è l'idolo delle ragazzine. Lui è molto bravo, sorridente, è un bel ragazzo e sia alla Svevo che alla Bergama sono tutti innamorati di lui ma capisco perché è molto garbato ma anche molto fermo, quindi riesce a tenere la classe. Ok, quindi anche i genitori sono soddisfatti evidentemente di questo progetto che si svolge nell'ambito non dell'orario scolastico? Si svolge di pomeriggio, no, due pomeriggi perché è extracurricolare, perché non possiamo assolutamente interferire nel programma curricolare ministeriale. Si svolge due pomeriggi a settimana a seconda delle scuole, in genere nella prima parte del pomeriggio. Riusciamo a snocciolare qualche dato, la partecipazione, l'affluenza, quante persone accolgono questo progetto e anche c'è una modalità di partecipazione di iscrizione piuttosto che... come funziona? Beh, funziona che noi in genere scegliamo le scuole dove inserirci e ovviamente essendo una fondazione siamo aperti a tutte le richieste che ci pervengono. Siamo in contatto con l'ufficio scolastico regionale ovviamente perché operiamo, diciamo, ascoltando e in sintonia con quelle che sono le direttive dell'ufficio scolastico regionale, ma poi interveniamo soprattutto nelle scuole dove sappiamo che c'è più bisogno, diciamo, di fare sport. Poi andiamo a proporci e sta un po' al corpo docente e al preside aiutarci a presentare al meglio il progetto per raccogliere le iscrizioni. C'è uno sport in particolare, oltre ai classici, tendo basket e calcio, che ha un stato particolare, stupore, interesse. Sì, abbiamo fatto un esperimento, al di là del gioco delle bocce, che le dico, io ero molto scettica e invece ai ragazzini mi piaciuto molto, abbiamo fatto l'esperimento del circo all'incirca, che è un'associazione che propone giochi, diciamo, da circo, ma che, come si può intuire, hanno a che fare con l'equilibrismo, con la concentrazione, con il gioco delle palle e quant'altro. È piaciuto da matti, sono impazziti e penso che lo rifaremo, perché è una cosa che è piaciuta. È piaciuto molto anche parkour. Il parkour lo abbiamo inserito in un, nel, diciamo, perché poi abbiamo anche un percorso di valori e di macro temi che cerchiamo di perseguire. L'abbiamo inserito nel percorso di sport e città, quindi diritti e doveri, no? E il parkour era perfetto, perché lo sport e città deve, diciamo, abbiamo cercato attraverso anche il laboratorio di comunicazione di far capire loro che quando ci si muove in una città ci sono dei diritti e dei doveri, ci sono delle regole da rispettare, l'importanza delle regole, no? Perché anche lo sport è fatto di regole, ogni sport ha le sue regole. E questi vanno rispettati per mille motivi e quindi anche il parkour è piaciuto molto. Ecco, qui apro una piccolissima parentesi, perché anche per chi non lo sapesse, no? Il parkour è quell'abilità particolare che, secondo cui, effettuare dei percorsi generalmente in ambiti urbani, dove è un'abilità nel riuscire a scavalcare e saltare ostacoli, utilizzare il proprio corpo come, appunto, veicolo per riuscire a effettuare anche acrobazie. Se andiamo a vedere dei video, troviamo delle cose pazzesche, anche, infatti, anche un po' pericolose da imitare, quindi bisogna sempre essere, impararlo bene insieme a degli esperti. Assolutamente. In questo caso, come viene effettuato il parkour in città, per esempio a Trieste? Loro lo fanno in palestra, deve tenere conto questo, no? Che non vanno in città per motivi assicurativi, per motivi basici, assolutamente. Tutte le attività sportive noi le facciamo fare nelle palestre delle scuole. Però, piazzate ostacoli, immagino, create una situazione tipo, secondo cui, ragazzi e ragazze... Esatto, esatto, sì, ci sono questi esperti che fanno vedere, danno dei rudimenti e che poi vengono, diciamo, esplicitati anche nelle forme e nelle regole, appunto, dagli esperti del laboratorio di comunicazione, che deve integrare a parole quello che ci sta dietro, no? Uno che va a fare skateboard in mezzo alla strada. Insomma, bisogna stare attenti, bisogna rispettare i passanti, i semafori. Unito all'educazione civica, praticamente. Eh, sì, educazione civica, esatto. Che si è un po' perso negli anni. Adesso è ritornata, no? Si è un po' persa, sì, sì. Però negli anni si era un po' persa. Infatti, questo è un tema molto importante anche da acquisire, anche per loro. E peraltro noi abbiamo un portale, abbiamo sviluppato, diciamo, una piattaforma online che si chiama Pio Sporta Scuola, e che dove vengono caricati tutti i prodotti, diciamo, i temi, i video, le interviste, che i ragazzini, gli studenti di questo percorso di Pio Sporta Scuola svolgono all'interno del laboratorio di comunicazione, per cui loro si possono divertire a guardare, o i genitori, insomma, perché è importante che anche loro sappiano cosa viene fatto, vanno a controllare cosa studiano, cosa praticano, come si muovono. Partecipazione è differente sia da parte dei maschietti che delle femminucce, giusto? Immagino, nel senso, c'è qualcuno, magari una categoria preferisce di più lo sport o meno, oppure avete trovato un'uniformità? Ma, insomma, c'è un'uniformità, perché poi c'è qualcuno che già fa sport più attivo. Diciamo che non vengono da noi quelli che vogliono fare calcio, perché magari, sì, calcio da noi si fa poco. Tendiamo a privilegiare, diciamo, tutto il resto. Nella riscoperta anche di alcuni sport, che magari meno conosciuti, ma comunque divertenti, come quello delle bocce. Lo sport delle bocce viene sempre praticato in delle palestre interne? Sì, perché hanno questo metodo di introdurre il gioco delle bocce nella palestra in un modo che non è quello che si fa nei paesi con la sabbia, come si gioca, che però è piaciuto molto anche per la, immagino, per la difficoltà nel prendere la mira, banalmente, di queste bocce. Quindi ogni sport avrà il suo istruttore proprio per svolgerlo? Sì, noi cerchiamo di alternare, diciamo, l'attività fisica normale e di gioco svolta dai docenti di, diciamo, fissi, con degli esperti esterni che, diciamo, alternano in una logica di multidisciplinarietà giochi speciali. Ecco, a livello di tempo, quanto tempo porta via? Due ore. Ok, due ore il pomeriggio. Il pomeriggio, sì. E a cadenza giornaliera? Due volte alla settimana. Due volte alla settimana, quindi, insomma. Sì, due pomeriggio a settimana. Si può fare, è un'educazione mentale, è un'educazione fisica, ma anche mentale, che, secondo me, non toglie tempo allo studio, perché, insomma, anzi, aiuta la concentrazione, le capacità cognitive in genere. Questo ce l'hanno detto gli esperti, che noi chiamiamo, diciamo, regolarmente a dei convegni di approfondimento su questo tema e io sono convintissima di questo. Poi lo sport genera sviluppo endorfine, fa circolare meglio il sangue, fa suggerire di più il cervello. Quindi immagino che tutto questo, assieme di fattori, contribuisca ad accentuare l'attenzione al ragazzo. Attenzione che viene sempre messa, presa, diciamo, presa di mira negativamente dalla società moderna di oggi, che ci costringe a stare fissi magari su certi interessi, come tanta tecnologia, tanta televisione, tanto computer, tanta multimedialità. Abbiamo forse un po' perso, no, la cultura sportiva, sempre di più. Lo sport diventa un, ah, sei proprio bravo a trovare tempo per fare sport. Sei quasi, non dico strano, ma insomma, la persona che fa tanto sport è vista come un piccolo superman nella società moderna di oggi. Io non credo, lei dice, questo non lo so, questo dipende un po' dalle varie scuole di pensiero, sa. Io penso che comunque l'attività sportiva sia assolutamente positiva. Noi agiamo in una regione dove c'è, appunto, come dicevo, un tasso di abbandono scolastico che sta aumentando e che è abbastanza, diciamo, grave, dove c'è un tasso di obesità, come abbiamo detto prima, che sta aumentando, con degli usi alimentari che non sono sempre sani, perché adesso la società ci sta portando, la televisione, i consumi, verso un'alimentazione un po' più sana. Però non è ancora quella che si trova nelle famiglie, non in tutte le famiglie si mangia sano. E quindi lo sport aiuta in tutti questi aspetti. Parliamo, giusto per chiudere, visto che siamo proprio in dirittura d'arrivo, della fondazione Pietro Piccini, parliamone un po' più in generale. Quindi si crea un'opportunità di crescita e sviluppo a sostegno anche dei più fragili. Quindi un'opera a 360 gradi, questo è un progetto, però poi la fondazione... Ne ha tanti, sì, sì. E quindi di che cosa? Abbiamo tanti progetti che stiamo svolgendo, non solo nelle scuole, anche nelle università e anche al di fuori. Noi dedichiamo il 60-70% del nostro tempo, delle nostre risorse, generalmente parlando, a progetti che disegniamo in casa. E il resto ascoltiamo le richieste che ci vengono da moltissimi, dal territorio. Abbiamo dei progetti che sono rivolti alle scuole. Noi abbiamo due linee di azione principali. Una è quella appunto della quality education e l'altra è, e lo sport ricade in questo, nel miglioramento educativo in senso ampio, come life skills, come valori che servano per la vita. E poi il grande tema dell'innovazione. Sotto il tema dell'innovazione e sviluppo abbiamo inserito il progetto Sperimentare il futuro, Industria 4.0, che svolgiamo sempre nelle scuole medie, con cui abbiamo, tra i due, abbiamo coperto 2.800 studenti dell'intera regione. Con questo progetto che svolgiamo in partnership con l'immaginario scientifico, cerchiamo di avvicinare i ragazzi delle scuole medie e le materie scientifiche alle STEM, che sono una grande carenza, soprattutto in visione della ricerca di lavoro. Quindi è una, diciamo, sono delle pillole di coding e di programmazione fatta con Arduino e con, sì, con Arduino e con altri programmi, diciamo, studiati per i ragazzi di questa età. E cerchiamo, appunto, sono momenti molto più brevi, perché sono, diciamo, pochi giorni all'interno dell'anno scolastico, in cui li avviciniamo, appunto, alla scienza e quindi alle materie scientifiche, alla fisica, alla matematica, a tutte queste materie che sono determinanti, anche banalmente per un domani se uno vuole guardare un po' più a fondo il cellulare, tutto il mondo del digitale, della robotica, dell'automazione e della meccanica. Ecco questo. Questi sono due progetti che abbiamo con le scuole medie, poi abbiamo altri progetti che stiamo sviluppando con le università. Stiamo varando un programma di premi di laurea con l'Università di Udine e con l'Università di Trieste sul tema dell'innovazione sociale. Poi stiamo, diciamo, partendo anche con un progetto con l'Università di Trieste, soprattutto con gli studenti universitari di Trieste per ESOF 2020, che è questo importante momento di scienza che si svolgerà a Trieste, e poi tanti altri percorsi, fra cui un altro che stiamo varando con l'Ufficio Scolastico Regionale per spingere i ragazzi delle scuole superiori a fare periodi estivi all'estero, quindi per aiutarli con le lingue, per conoscere mondi nuovi, per aprire la testa, banalmente, e tanti altri ancora che stiamo, diciamo, organizzando e studiando. Molto bene. Allora, diamo due informazioni anche ai telespettatori, riferimenti web, per chi fosse interessato a questo progetto, come, quando, dove, perché, quindi. Allora, noi abbiamo un sito della Fondazione, si chiama fondazionepittini.it, siamo presenti sui social, con Facebook, con Instagram, LinkedIn, e comunque siamo sempre pronti a ricevere commenti, qualsiasi, diciamo, richiesta, informazioni che noi vaglieremo o incontro, basta scrivere a info, chiocciola fondazionepittini.it, i nostri uffici sono a Sistiana, ma siamo, ci muoviamo tantissimo su tutta la regione, per cui siamo a disposizione per qualsiasi informazione necessaria. Molto bene, grazie allora Marina Pittini, presidente della Fondazione Pittini, per averci illustrato il progetto più sport a scuola, adesso piccola pausa pubblicitaria, e poi di nuovo assieme a Trieste in diretta. Grazie. Eccoci di nuovo assieme a Trieste in diretta con Franco Del Campo, buongiorno, anzi buon pomeriggio, grazie per essere qui con noi, presidente di Finplus Trieste. E grazie a voi per l'invito. E oggi parliamo di questo progetto che aderisce, in realtà Finplus Trieste aderisce a un progetto del CONI, più sport per tutti. Esattamente, sì. Di cosa parliamo nello specifico? Parliamo di una cosa, di un'iniziativa che mi pare bella, giusta, interessante e che è importante anche divulgare al grande pubblico e quindi vi ringrazio doppiamente, perché è qualche cosa che noi facciamo, spieghiamo prima, la Finplus Trieste è la società della Federazione Italiana Nuoto che gestisce la piscina Brunobianchi di Trieste, che è una piscina comunale in collaborazione comune Federazione Italiana Nuoto ed è una delle piscine più grandi, se non la più grande è una delle piscine più grandi, se non la più grande è un'iniziativa fatta autonomamente all'inizio per favorire proprio lo sport per tutti e in particolare il nuoto, questa è la nostra specialità, il nuoto per tutti. E quindi abbiamo già messo negli anni scorsi a disposizione un certo numero di corsi di nuoto gratuiti per le famiglie che hanno i bambini, che hanno un gran numero di figli o un maggior numero di figli e sono anche in condizioni economiche comunque segnalata dall'ISEE e quindi magari più scarsa disponibilità economica e famiglia numerosa, ecco che magari c'è la necessità, il rischio di ridurre determinati consumi, tra questi consumi ci potrebbe essere quello che viene considerato così più aleatorio come l'attività motoria, sportiva o natatoria che invece ha i suoi costi e allora abbiamo fatto questa scelta autonomamente in qualche tempo fa, naturalmente io parlo il plurale perché sì io sono il presidente, il direttore del centro federale eccetera eccetera, però tutte queste iniziative le facciamo di concerto su proposta e su sviluppo anche dei miei collaboratori, anzi delle mie collaboratrici, è giusto che le citi, Manuela Zorzin, Alessandra Gianolla, Daniela Macina, ciascuna nella propria funzione e abbiamo portato avanti questa iniziativa. Quest'anno abbiamo scoperto, abbiamo visto che il CONI si muove proprio su questa stessa lunghezza d'onda e ha promesso questa iniziativa che è sport di tutti, anzi il progetto inclusivo quindi. Assolutamente, è un progetto inclusivo che intanto parte per i più giovani e quindi le famiglie che ritengono di avere queste condizioni, situazione economica, situazione famiglie numerose eccetera eccetera, possono accedere al sito del CONI che è www.sportditutti.it, lo trovate facilmente e potete, le famiglie possono accedere e fare la domanda autonomamente e quindi vengono poi girate anche a noi. Però se questo qualche volta può essere una difficoltà, magari la gestione di internet non è scontata o facile per tutti, possono chiamare al numero di telefono della piscina o scrivere anche la nostra email e il nostro personale e tutti quelli che collaborano con noi possono dare una mano per la compilazione che per il resto è molto semplice e quindi possono accedere a questa possibilità, a questa disponibilità che abbiamo messo. C'è un numero chiuso, c'è un limite che bisogna conoscere? Sì, sì, allora noi abbiamo fatto posto un numero che è abbastanza alto perché abbiamo riservato 30 posti a questo progetto che siamo intorno al 5% dell'attività che svolgiamo alla piscina Bianchi con la nostra scuola nuoto e quindi già alcuni si sono già, abbiamo visto, si sono già in qualche modo prenotati, si hanno già avanzato alla loro richiesta e quindi chi dovesse essere interessato può chiamarci, può scriverci e può andare direttamente all'accesso del CONI. Io credo che sia qualcosa di utile e di importante perché magari famiglie numerose, magari ci sono le risorse per mandare un bambino in piscina e magari il fratello, la sorellina o altro rimane escluso, tagliato fuori e quindi in questo modo aiutiamo, proprio come diceva lei giustamente, è un progetto di inclusione, è un progetto di apertura, di disponibilità sociale e credo che finché si può e si deve poter far questo, credo che sia utile, importante, prezioso, ecco non ci dobbiamo distrarre da questo punto di vista. Ecco, un progetto volto appunto a dare possibilità a tutti, sport per tutti, di effettuare attività sportiva ma anche di insegnare perché è comunque un'attività anche educativa, insegnare a uno stile di vita sano, al connubio sport più vita di tutti i giorni, anche come relazionarsi per individui che vanno dai 5 ai 18 anni. Sì, lo spettro dell'età disponibile è piuttosto ampio, dai 5 ai 18, ma forse i 18 sono anche un po' tanti, ma insomma va bene lo stesso, ma se dovessimo avere un bambino di 4 anni, facciamo la domanda lo stesso, che facciano la domanda lo stesso e qualcosa si vede, si cerca di fare. Però è molto giusta l'osservazione perché non si tratta soltanto, semplicemente, altro che è estremamente importante, ma non si tratta semplicemente di un'attività motoria o di una disciplina sportiva. Intanto precisiamo che la nostra impostazione didattica è soprattutto tesa all'acquaticità, cioè alla capacità di muoversi in acqua in sicurezza, per la propria sicurezza e la sicurezza degli altri. Adottiamo una didattica di carattere giocoso, quindi i bambini giocano, quindi uno dei primi obiettivi, anzi direi proprio il primo obiettivo, è quello di eliminare, togliere la paura dell'acqua, che è una paura atavica, perché noi in acqua abbiamo la percezione di cadere, e in realtà è una falsa percezione, perché in realtà il principio di Archimede ci riporta a galla, però invece la paura può farci andare a fondo, invece no, con la didattica, con l'approccio metodologico adeguato, questa paura scompare quasi subito, anche se teniamo conto di un aspetto che sembra essere contrario a questo obiettivo, che tutta la piscina bianca, è una piscina enorme, poderosa da questo punto di vista, è stata costruita con finalità soprattutto agonistiche, la ricordiamo, abbiamo una vasca olimpica da 50 metri, anzi da 52 metri, perché c'è un pontile mobile che può essere spostato a metà, se lei l'ha frequentata avrà vista, che si possono, creiamo due piscine da 25 metri, per la didattica, per permettere da una parte le società sportive, dall'altra parte il pubblico, e poi abbiamo un'altra piscina da 25, in cui c'è il castello dei Tuffi, e siamo una delle città alle quali il settore Tuffi fa maggiormente riferimento, perché non ce ne sono tantissime, anzi sono proprio poche le città che hanno questa struttura così completa come la nostra, infatti ospitiamo grandi manifestazioni a livello internazionale, e poi c'è una vasca da 50 scoperta per l'attività estiva, e per un periodo dell'anno tutte e tre le vasche funzionano contemporaneamente, quindi si tratta, cioè gestire questa piscina è come gestire una porta aerea. Sì, ampio spazio, grande offerta, grande possibilità di partecipazione. Io lo ripeto sempre, perché dà la dimensione dell'importanza di questo tipo di attività che viene svolta in piscina, in particolare a Trieste, perché noi abbiamo una frequenza annuale che supera le 200.000 persone, chiaramente sono sempre le stesse magari che ritornano, eccetera, però 200.000 persone entrano in piscina ogni anno, e questo è come se tutta Trieste ogni anno passasse per la piscina. E credo che nessun impianto sportivo possa avere numeri di questo genere, attenzione, non di gente che guarda lo sport, ma gente che fa attività motoria e fa quindi anche sport. Mi ricordo molto bene quando sono andato alla piscina bianca, anche nell'occasione in cui c'era stata ospitata Federica Pellegrini, quindi insomma mi ricordo intanto quanta gente, anche di spettatori, riusciva a ospitare. Abbiamo più di mille persone. Eh sì, poi nella sala dove c'era la sala stampa, sopra dall'alto con la vetrata, si vedeva proprio Mastodonti con lo spazio che si spianava. L'impatto visivo è anche molto bello. L'occasione che lei ricordava era stata proprio in occasione del centenario della fondazione della Triestina Nuoto e quindi è stato fatto uno sforzo straordinario sia dalla società Rosso alla Bardata che nasce nel 1919, quando poi nasce la Triestina Calcio, la Triestina Nuoto, poi ci sarà l'Oche, eccetera. Poi le vie, i destini si diramano, eccetera. Però poi si torna... Però poi insomma il cuore rosso alla Bardato era ed è comune a tutti quanti. Quindi c'è stata fatta questa grandissima manifestazione a cui anche noi come Federazione Italiana Nuoto abbiamo dato il nostro contributo. Però questo è stato veramente anche la possibilità di mostrare a livello cittadino, a livello nazionale, con la Federica Pellegrini, che è veramente la regina del nuoto ed è stata anche molto generosa nel suo proporsi, impegnarsi e anche parlare con i bambini perché è un mito. Io ho una nipotina che stravede per lei e quindi diventa anche un modello di riferimento. Tornando invece al progetto Sport di Tutti, quanti istruttori sono coinvolti in... Ma noi abbiamo, anche in modo flessibile perché i momenti cambiano, tra i 30 e i 40 istruttori come Finplus Trieste, però credo che se noi mettiamo anche le altre società di nuoto che operano presso la piscina bianca, a cui noi forniamo il servizio, evidentemente, noi credo che saremo oltre il centinaio. Ed è importante sottolineare che sono tutti istruttori con l'abilitazione della Federazione Italiana Nuoto e quindi con una garanzia di competenza e di serietà che, insomma, è una cosa su cui non si può transigere ed è un valore aggiunto da questo punto di vista. Che risposta ci si aspetta da questo progetto? Ma la risposta io credo che sarà sicuramente positiva anche da quello che abbiamo visto gli scorsi anni. Ma, diciamo, un risvolto forse poco, a cui si può pensare poco quando si presenta un'iniziativa di questo genere, che è un'iniziativa di carattere solidale e sociale al tempo stesso, aprirei una parentesi, lo sport deve essere sociale e deve essere solidale. Lo dico io che vengo da antichissima esperienza, ormai dimenticata, esperienza agonistica con le mie Olimpiadi del 1968 a Città del Messico, quindi, diciamo, pure uno sport di vertice, ad altissimo livello, però sempre e comunque la base e la dimensione sociale da cui i bambini devono poter crescere, avendo l'ambizione di arrivare magari alle Olimpiadi, magari a vincere, non è il mio caso, le Olimpiadi, che è il sogno di tutti quanti, però comunque fare attività motoria prima e attività sportiva, poi significa comunque confrontarsi con se stessi, interrogarsi, magari con la propria fatica, magari con la propria poca voglia di andare quel giorno a nuotare in piscina oppure andare a giocare a calcio quando c'è la bora, il freddo, eccetera, eppure ci si va lo stesso e se si superano questi ostacoli, perché sì, magari prima sono i genitori a spingerti, a portarti, ad aiutarti, ma poi deve essere tu a sapere che devi andare a fare queste cose, acquisti una consapevolezza di te stesso, dei tuoi limiti, delle tue fatiche, ma anche di quello che puoi andare oltre, superare, impari a confrontarti con gli altri, perché non siamo mai soli, anche quando facciamo degli sport individuali non siamo mai soli, perché abbiamo l'allenatore, abbiamo i nostri genitori, abbiamo i nostri compagni di squadra che sono vicini a noi, con cui ci confrontiamo, che copiamo, perché magari c'è qualcuno che va meglio di noi, ma anche noi possiamo andare a rincorrere, a superare, eccetera, è così. Ma poi la sfida è contro noi stessi nello sport, anche se c'è la competizione. Alla fine, giustamente, la sfida è sempre contro noi stessi, anzi a favore di noi stessi. Certo. E l'altro, quello che ci sta vicino, che ci può battere o che noi possiamo battere, è la misura di noi stessi. E quindi questo ci aiuta. E poi ci aiuta ad avere uno scopo, ci aiuta a rispettare gli altri, che sono i nostri avversari o possono essere i nostri compagni di squadra, che comunque poi cerchiamo di superare. E poi a rispettare le regole, a rispettare i giudici, a rispettare quella che è la fisionomia di insieme dello sport. E allora, conoscere se stessi, rispettare gli altri, rispettare le regole, rispettare i giudici arbitri, eccetera, che devono essere un'autorità, ma un'autorità che si viene riconosciuta e che deve essere condivisa. Se sommiamo, e qua viene fuori, le accennavo anche prima un altro pezzo della mia vita, io sono un vecchio professore di filosofia, filosofia, se sommiamo tutti questi aspetti, viene fuori che noi in realtà mandiamo questi bambini in piscina a fare atletica, pallacanestro, calcio, tutto quello che volete, canottaggio, ci mancherebbe altro, eccetera, ma formiamo qualsiasi risultato ottengono o non ottengono dei bravi cittadini. E questa è una cosa molto, ma molto importante. Nello sport è in primis educazione, alla fine. Assolutamente. Poi a certi livelli arriva anche l'obiettivo, perché poi il raggiungimento di un obiettivo in certi livelli diventa anche la cosa dove focalizzarsi, però soprattutto adesso vedo l'età tra i 5 e i 18 anni, anche l'importanza di iniziare con la piscina, l'ottimità sportiva, perché non credo che sia banale il fatto che i genitori insistano molto che i bambini fin dalla tenera età imparino a nuotare come primo stimolo sportivo. Assolutamente. Sì, io direi primo stimolo motorio proprio. perché poi la sportività viene un po' dopo. Prima l'acquaticità, prima impariamo a stare in acqua, stiamo bene in acqua, giochiamo con l'acqua, eccetera, e poi magari arriva qualche cosa di più, arriva il primo stile, lo stile libero, gli altri stili più o meno complicati, anche questi sono disciplina e via dicendo. Però questa dimensione educativa a cui lei faceva riferimento e io estenderei, ma in realtà è la stessa cosa, direi anche culturale, ci riporta a quella che abbiamo già avuto occasione di parlarne qui anche a Telequattro, a quella che è una veramente specialità, direi, me la dico solo, ma non me la dico soltanto solo, eccezionalità, è un'eccellenza di Trieste e della piscina Bruno Bianchi, che è diventata un contenitore culturale. è una piscina molto grande, in qualche caso forse gli spazi sono anche stati sprecati e quindi dobbiamo riscaldarli lo stesso, eccetera, e quindi abbiamo pensato che si poteva utilizzare un difetto e farlo diventare un pregio. e allora già da un paio d'anni, due o tre anni o anche più, abbiamo, a proposito di quello che dicevo prima, abbiamo realizzato una sorta di mostra permanente sulla Costituzione italiana, che è una mia passione, devo dire, credo che sia anche fondamentale, nuoto, sport e Costituzione, e Costituzione, a proposito di cittadinanza, come dicevo prima, che percorre, uno sale le scale della piscina, alcuni corridoi, eccetera, e vede grandi tabelloni con gli articoli principali bellissimi, scritti bene, in modo chiaro, in modo sintetico, comprensibile a tutti della nostra Costituzione, a proposito di regole. Recentemente, 2019, anniversario dell'infinito di Leopardi, torna fuori la mia vecchia, la mia vecchia storia, e abbiamo messo l'infinito tre versioni, l'infinito di Leopardi, la pagina autografa, e grazie a un piccolo contributo del professor Fantoni di ESOF 2020, anche l'infinito dal punto di vista scientifico. L'abbiamo messo ben visibile in piscina, lo abbiamo comunicato, l'ho comunicato con una email alla Presidenza della Repubblica, e con grandissima soddisfazione, orgoglio, mi è stata mandata a me, ma in realtà vale per tutti i nostri collaboratori, una lettera di apprezzamento, di ringraziamento per quello che stiamo facendo da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ed è questa, ecco, una somma soddisfazione, ce la teniamo la protetta, l'abbiamo pubblicata, eccetera, però sono quelle cose che poi ti rimangono dentro, e credo che sia giusto condividere questa esperienza, anche questa valutazione, questo apprezzamento, perché è qualcosa che va ad accrescere il valore di tutto quello che facciamo in piscina, ma nell'ambito dello sport a Trieste, non dimentichiamo che Trieste è una delle città da più alta sportività di attività svolte, e quindi di tutta quanta la città, e quindi anche del Comune di Trieste, che insomma non dimentichiamo che si tratta di una piscina comunale, ed è stato il Comune a investire in modo importante prima nella realizzazione e poi anche ad aiutare la Federazione Italiana Nuoto nella gestione di questo impianto. quindi ecco diciamo che c'è un panorama abbastanza esteso e anche ci dà qualche soddisfazione. Oh bello, bellissimo anche questo fatto che poi uno entra nelle piscine bianche e oltre a respirare sport e cloro e cloro, respira cultura, che in genere sport e cultura sono due cose che forse un po' troppo erroneamente vengono sempre considerate distaccate, o sbaglio, nel mondo di oggi. No, no, assolutamente, questo è assolutamente giusto, assolutamente fondamentale. io lo scrivo, lo dico, lo racconto, eccetera, e proprio anche i mass media spesso aiutano a deformare e a dividere, a categorizzare proprio, a mettere categorie, esatto, da questo punto di vista. e invece lo sport è cultura, fa parte della cultura. Gli antichi romani, lo ripeto sempre, dicevano il bravo cittadino, il civis romanus, deve saper leggere e nuotare, no? Anche perché avevano i cartaginesi che stavano... No, vabbè, ma questa è una scherza. No, no, ma proprio in termini proprio di cultura. Certo. E quindi da questo punto di vista dovrebbe essere la scuola a diventare il centro di questa promozione. La scuola in Italia è tanto importante quanto affaticata. Bisogna aiutarla in tutti i modi possibili e noi lo facciamo e tra l'altro forse l'ultima cosa che si può dire ma è un spunto su cui potremo ritornare proprio grazie alla collaborazione con il Comune di Trieste rilanciamo anche quest'anno un progetto di inserimento, di avvicinamento di bambini molto piccoli al nuoto ma questo lo... Si può dire però? Si può accennare? Si può accennare. Sono cose già fatte ma sono talmente belle e importanti anche queste e anche questo dà dimensione al progetto complessivo che credo ne parleremo anche con l'assessore competente sarà giusto e importante sottolineare questo rinnovato impegno a favore dei bambini dell'attività motoria dello sport e della loro cittadinanza. Assolutamente poi parlavamo anche con l'ospite precedente proprio di questo che implementare i progetti sportivi nelle scuole che molte volte anche lì in genere l'attività sportiva staccata dal contesto scolastico quindi insomma ci sarebbe da fare un discorso lungo perché noi abbiamo ancora un'impostazione apprezzabile per alcuni aspetti ma non da altri antica della riforma Gentile che divideva Gentile era un filosofo idealista e divideva proprio questa dimensione del corpo da una parte e l'elevazione dello spirito e quindi la filosofia eccetera dall'altra ecco con tutta la stima possibile da questo punto di vista ma le due dimensioni devono ricongiungersi perché sono congiunte nella nostra essenza nella nostra realtà quotidiana certo allora ultima cosa ricordiamo ai telespettatori un po' i dati che possono interessare per eventuali iscrizioni il sito assolutamente mi devi aiutare perché la mia memoria adesso sono anziano ma non è mai stata granché allora per telefonare per avere delle informazioni immediate al telefono potete chiamare la nostra segreteria della Finplus Trieste che è 040 306024 invece questa me la ricordo potete scrivere anche un'email a finplus trieste chiocciola gmail punto it finplus trieste è tutto attaccato chiocciola gmail punto it e potete prendere contatto con noi se no il sito del coni www.sport di tutti punto it e allora grazie a Franco Del Campo presidente di Finplus Trieste per averci parlato di questo bellissimo progetto grazie a voi per averci seguito finora continuate a farlo perché ci rivediamo dopo la pausa pubblicitaria a e a a a a a a a a Grazie a tutti.